Il testimone per me è colui che in qualsiasi condizione si trova a vivere è capace di essere coerente con la propria vocazione che è una vocazione alla vita attraverso il servizio agli ultimi. Il profeta è colui che riesce ad adeguarsi al contesto che cambia. Adeguarsi vuol dire a comprendere, ad ascoltare il contesto sociale e culturale che si modifica e riesce a dare risposte autentiche di amore e di dono all'altro. Grazie.